L'occasione di avere la collezione Thomas Walter a camera nasce da di fatto una circuitazione europea che ha visto protagonisti il Masi di Lugano, il Jeu de Pomme di Parigi e appunto Camera, quindi il MoMA ha individuato nella nostra istituzione la realtà in cui far vedere queste opere. La motivazione di questa circuitazione è nata dal fatto che il vecchio direttore del Dipartimento di Fotografia del MoMA, Quentin Bejac, sia passato poi al Jeu de Pomme alcuni anni fa e di fatto abbia deciso di portare in Europa questa incredibile collezione. Sono 120 fotografi, alcuni dei più noti autori di questi anni, gli anni in considerazione sono il 1900-1940, ma anche autori sconosciuti o addirittura anonimi, ci sono ad esempio delle foto di agenzia o delle foto che appartengono all'esercito americano per dire, quindi c'è davvero una panoramica molto ampia, però ci sono davvero anche i grandi capolavori di questo periodo. Tantissime donne in mostra, ovviamente non una quantità paragonabile per percentuale a quella dei nomi maschini, ma comunque donne che hanno fatto la storia della fotografia, penso a Lucia Moli che è stata la prima a scrivere una storia della fotografia nel 1939, ma anche grandi autrici come Germaine Krull, Lee Miller ad esempio, quindi sono autrici che non vengono rivalutate oggi alla luce di nuove dinamiche, ma che in quegli stessi anni contribuirono a creare un nuovo modo di utilizzare la fotografia. Grazie. Grazie.